Certo, è un anno e mezzo passato velocissimo ed è stato un anno difficile sapete che cosa è la cosa più difficile per l'annunzio? non offendere nessuno perché molto spesso succede che qualsiasi cosa tu dica per qualcuno non va bene soprattutto il silenzio naturalmente il silenzio non va bene a nessuno perché tutti lo interpretano la cosa più difficile in questo momento e lo dico a voi che siete rappresentanti dei media e riusciva a interpretare quello che la gente sente e non quello che qualcuno vuole che senta questo è il problema più delicato perché in un momento di grossa difficoltà del paese la concordia è fondamentale la grande victoria di coloro che non armano l'Ucraina è dividerla e hanno enormi mezzi per farlo e i mezzi più importanti non sono le armi sono la propaganda e sono il colpire i sentimenti più nascosti più primitivi della persona ecco questo francamente è la cosa più difficile che non mi è capitata in altre situazioni che pure ho vissuto con grandi difficoltà come la guerra con i russi in Georgia nel 2008 però diciamo che ci troviamo di fonte a un'opinione pubblica piuttosto unita e qui è molto più difficile proprio perché la guerra è soprattutto una guerra di divisione, di frammentazione lei accennava alle mie frequenti visite nell'est del paese sia dalla parte sotto controllo governativo sia dalla parte non controllata dalle forze governative e quindi questa è sempre l'Ucraina ma non dobbiamo dimenticare la cosa più difficile è riuscire a capire perché le persone che si sentono tutto sommato in comunione, che si sentono amiche che si sentono fraterne vengono descritti come nemiche ci sono persone che non amano il paese ma la grande maggioranza non ha nessuno spirito di reazione contro l'Ucraina in quanto tale hanno idee diverse questo non significa riuscire a capire ma questo non significa riuscire a capire la cosa fondamentale è che questo sentimento non venga fomentato in maniera artificiale che questo sentimento da una parte e dall'altra della linea non diventi ossessivo non diventi ossessivo perché questa sarebbe la più grande vittoria dei nemici sarebbe un bellissimo regalo offerto su un vassoio d'oggetto ecco l'iniziativa del Papa ha proprio questo risultato quello di far vedere che la persona umana è la stessa al di là delle linee e dei fronti che non significa che non ci siano dei colpevoli e degli innocenti la giustizia è un sentimento importante un valore importante che va capito e va valutato criticamente ma non tutti sono colpevoli di tutto ma non tutti sono colpevoli semplicemente perché sono nati in un posto non ti chiede in un altro e per tutto non tutti sono stati in un posto che non sono stati in un posto in un posto la nascita non è mai una colpa la colpa prevede che ci sia una scelta e la nascita non è mai una scelta le impressioni che ho avuto sul posto sono impressioni molto pesanti la gente soffre moltissimo molti cercano di andare altrove il simbolo che mi ha colpito di Pérù in queste visite sono tutti i punti distrutti quando i punti sono tutti distrutti vuol dire che non c'è più comunicazione a quando mosti sono pittorini означano che non c'è più non c'è più non c'è più comunicazione fisicamente da un senso di grande tristezza il fatto che per andare a Lugansk bisogna passare per Donetsk fa una lunga strada perché tutti i punti sono stati distrutti c'è solo una possibilità di alternativa passare per la Russia questo vuol dire molto la mia sensazione è che la gente ha i nervi a pezzi i bambini in particolare vivono una situazione tutte e due parti vivono una situazione impossibile sopportarsi io non so come reagiranno quando saranno adulti ma come mi fa pena il loro dolore così mi fa paura il loro futuro queste sono le mie impressioni principali non so dirle quanto questa cosa durerà ma certamente non dipende dalle persone che ho incontrato io le dirò che il fatto che il Papa parli meno dell'Ucraina è anche una scelta che gli è stata proposta dai suoi collaboratori e francamente posso dire che anche io la condivido il parlare del Papa è l'azione per l'Ucraina il parlare del Papa è quando mi ha mandato 200 mila euro per i bambini il resto è molto delicato perché entra nel problema che ho citato all'inizio se qualcuno si è messo in testa che il Papa sia il compagno di giochi del patriarca di Mosca e che ogni seba giocano a carte insieme qualsiasi discorso faccia viene interpretato come una giustificazione del Papa per quello che non dice o non fa ora siccome questo non è vero è inutile continuare a suscitare poi questa specie di guerra su Facebook e su tutti gli altri mezzi di comunicazione perdendo il messaggio centrale che è quello che il Papa è accanto all'Ucraina allora se io ho al posto del Padre che sta qui seduto a me il Papa e continuo a dire che non c'è ma c'è un frate Capucino non serve che stiamo 24 ore seduti sulla stessa sedia per vedere che c'è veramente il Papa perché chi vuole continuerà a dire che il Padre è Capucino ecco perché francamente non mi sembra questo il tempo delle parole vi posso assicurare che nelle sedi internazionali la diplomazia pontificia è molto attiva per l'Ucraina sui principi che voi conoscete rispetto dell'integrità territoriale e dei confini penso che più chiaro di così non si possa essere si interviene regolarmente per favorire il rispetto di questa norma internazionali però per la diplomazia pontificia che ha un carattere particolare l'importante non è ripetere per la gente ad alta voce continuamente queste cose ma quello di aiutare piccoli accordi di pace piccole intese piccole azioni umanitarie piccoli contatti in modo che dal piccolo possa venire il grande noi siamo la diplomazia dei piccoli passi anche se gli ideali politici della Santa Sede sono i più esigenti perché non hanno come orizzonte il mondo ma l'eternità e con l'eternità non si gioca forse a distanza di cento anni si può ancora pensare di poter vincere ma di fronte a tribunali non ci sono pochi ma di fronte a tribunali ma di fronte a tribunali ma di fronte a tribunali cioè per quanto lungo questa situazione la testa può ancora durare io ho una domanda secondo me secondo me i cattolici i cittadini e i cittadini e i cittadini e i cittadini che cosa ci sono che cosa può fare perché queste guerre finiscono grazie di questa domanda per me la cosa più importante è che le persone si incontrino come persone si accettino come persone e non guardino soltanto i luoghi di provenienza e questo succede in Ucraina ma c'è chi non è d'accordo ma c'è chi non è d'accordo i cristiani devono essere dalla parte di quelli che sono d'accordo perché se noi cominciamo a dire lui è nero io sono bianco il problema non è più la responsabilità di chi comanda ma la responsabilità è del tipo di sangue che c'è dentro le vene della persona e questo è inaccettabile per i cristiani il sangue non è mai colpevole se non quando si sparge il sangue dell'altro quindi la cosa più importante che i cristiani i cattolici possono fare è di accettare l'altro e che non significa essere d'accordo su tutto quello che dice ma non significa neanche sperare che il problema si risolve o si risolverebbe se l'altro non ci fosse ma non è mai colpevole ne думate che problemi possono riuscire quando il resto перестane e se non è mai colpevole e non questo quell'errore nazionale questo quel politico questo quel capo religioso ma Gesù Cristo e questo probabilmente ci porterebbe a un coraggio di scelte radicali che andrebbe al di là di tutti gli stereotipi di cui ho parlato prima io ho visto per esempio un gruppo molto numeroso di giovani che sono stati mobilitati da un gruppo христиano sono più di 1500 e vanno nell'est per aiutare le persone in difficoltà a ricostruirsi la casa a tenere i bambini a rimettere a posto la stalla e lo fanno gratis e rinunciando le proprie vacanze ecco questo è un comportamento cristiano ose ce è la christianza povedina che cosa lei potrebbe augurare ai fedeli per la Pasqua oh guardate la Pasqua è anzitutto in questa parte del mondo una bellissima festa della natura questa bellissima terra che ha tutto i climi più diversi e gli spettacoli naturali più diversi dal mare carpecci non c'è morte che non conosca risurrezione questa è la nostra responsabilità perché se tutto si risolvesse nei 70 anni della nostra vita tutto sommato sarebbe anche facile vivere ma sapere che ogni nostra azione ha un profumo di eternità dura per sempre ci porta questa responsabilità allora il mio augurio all'Ucraina per la risurrezione del Signore per la Pasqua del Signore è che si godi i fiori che produce e anche che si senta responsabile di tenerli vivi il più possibile perché non venga troppo presto l'autunno che non vengono che non vengono Grazie.